Buongiorno Matteo Bressan, docente di studi strategici presso la LUMSA, la CIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, professore partiamo da Putin, si parla, si è parlato di errori strategici, di consigli forse non affidabili da parte dell'entourage, persino addirittura di malattia, insomma, no, nello spiegare il comportamento del leader russo. Leader a cui tra l'altro lei ha dedicato anche un libro Arrivando a Putin che si intitola Da Klausewitz a Putin, la guerra nel ventunesimo secolo. Che caratteristiche ha questo conflitto che tra l'altro è nato come operazione militare speciale? Dunque, questo conflitto ci riporta per certi versi indietro nel tempo, perché abbiamo visto nel periodo gennaio 2022 un grande assembramento di uomini, mezzi, terrestri e soprattutto anche navali, che sono partiti dalla frotta russa nel Baltico, sono entrati a Cibilterra, hanno transitato nel Mediterraneo e sono arrivati nel Mar Nero. Quindi abbiamo visto qualcosa che in Europa non vedevamo da tempo e che probabilmente, e a cui probabilmente non eravamo neanche culturalmente pronti e politicamente pronti ad interpretare. Il ragionamento che nel libro che abbiamo curato insieme al collega Giorgio Cuzzelli, da Klausewitz a Putin, la guerra nel ventunesimo secolo, noi cerchiamo di tracciare un filo conduttore tra i capisaldi del pensiero di Klausewitz e tutte le guerre, conflitti di vario genere che abbiamo registrato soprattutto negli ultimi vent'anni. Ed è per questo che abbiamo coinvolto altri colleghi autori provenienti dal mondo accademico per focalizzare un aspetto che è il filo conduttore dal pensiero di Klausewitz a Putin, ovvero il filo conduttore che unisce questo mosaico pur nella diversità delle forme e delle rappresentazioni dei conflitti e lo stesso imporre con la forza la propria volontà all'avversario. Ecco perché io con molta prudenza ho sempre evitato di cercare nelle possibili condizioni di salute di Putin una giustificazione, una motivazione a quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo dal punto di vista di Putin e della Russia è molto razionale. Poi naturalmente noi non lo accettiamo, non lo condividiamo, non possiamo condividere e comprendere un'aggressione di uno Stato sovrano nel cuore dell'Europa, ma dal suo punto di vista questa è un'operazione che probabilmente nelle prime 48 ore o quantomeno nella prima settimana di operazioni militari puntava a colpire al cuore lo Stato ucraino, probabilmente anche puntava all'arrovesciamento di Zelensky o anche puntava, se vogliamo, alla sua fuga. L'appello di Putin ai militari ucraini nei primi giorni di conflitto poteva essere il preludio a un colpo di Stato? Questo non lo sappiamo, ma probabilmente l'operazione che ha cercato di colpire varie punti nevralgici dell'Ucraina nella prima settimana probabilmente aveva questo obiettivo. Naturalmente dall'altra parte c'è stata una fortissima resistenza che ha imposto costi materiali e umani molto alti alle forze rosse e questo spiega perché ora, alla luce di quello che abbiamo visto negli ultimi 4-5 giorni, vediamo un arretramento nei dintorni di Kiev e una concentrazione di forze più nella parte orientale del paese e quindi a ridosso del Donbass e soprattutto assistiamo nelle ultime ore a ulteriori attacchi su Odessa che si vanno a sommare all'assedio di Mariupol e che possono far pensare a un obiettivo che vada in qualche modo a occupare buona parte della costa sul Mar Nero. E poi, professore, mi scusi se la interrompo, però Putin effettivamente fin da subito aveva concentrato le proprie attenzioni e le proprie mire probabilmente proprio dal sud perché è strategico, no? Mire la Crimea al Donbass. L'attacco a Odessa delle ultime ore va in questa direzione, c'è un disimpegno nel resto del paese, non interessa occupare l'intera Ucraina, insomma. Ma innanzitutto, allora, noi dobbiamo ricordarci un aspetto essenziale. La conquista e il controllo di un territorio che per l'80-85, diciamo anche il 90%, è ostile alle forze russe a un costo per un esercito, ancorché importante, una forza armata importante come quelle russe, enormi. Vuol dire occupare un territorio ostile, tant'è vero che uno degli aspetti che probabilmente avevano orientato la campagna militare all'inizio era quella, era la percezione che una parte della popolazione avrebbe accolto i russi a braccio aperto e così evidentemente non è stato. Il fatto di concentrarsi sulla parte sud e quindi sulla parte di costa, sul Mar Nero, può avere però anche qui una serie di incogni della prima. Un conto è lanciare attacchi su destra, un conto è sbarcare uomini in mezzi sulla spiaggia, verosimilmente già presidiata, minata e pronta a, insomma, respingere o quantomeno alzare moltissimo i costi di uno sbarco, perché uno sbarco come potrebbe essere con gli assetti navali di cui dispone la Russia vorrebbe dire uno sbarco in cui le navi arrivano praticamente sulla spiaggia, con dei rischi enormi. Un conto è l'obiettivo di occupare tutto il tratto e quindi togliere l'accesso all'Ucraina al Mar Nero? Questo è qualcosa di ricevibile per Zelensky, anche in un'ipotetica trattativa che dovesse in qualche modo prevedere cessioni territoriali, e stiamo qui ancora nel campo delle ipotesi, perché io non credo che si possa ancora parlare di assetti territoriali dell'Ucraina futura. Tant'è vero che un conto è il cessare del fuoco, un conto sono i corridoi umanitari, un conto è la neutralità e non ingresso nella Nato, quando si arriva a parlare di Donbass e Crimea il negoziato non parte. Quindi ipotizzare il controllo russo dell'accesso dell'Ucraina al Mar Nero probabilmente ad oggi è qualcosa che non farà mai sedere al tavolo della trattativa gli ucraini, perché vorrebbe dire strozzare l'economia dell'Ucraina e impedirle quindi di l'accesso al mare così strategico anche per la sicurezza alimentare, come abbiamo visto e come stiamo vedendo in queste settimane. Certo. Una battuta invece sul cambio dei rapporti che questo conflitto ha comportato tra la Russia e l'Europa in particolare. Peskov qualche ora fa ha detto quando gli europei avranno smaltito la sbornia da barbara americano si potrà riprendere il dialogo. Sono insomma posizioni piuttosto ferme, no? Dunque, allora queste affermazioni però fanno in qualche modo, obbligano della riflessione. È probabile che all'inizio del conflitto Mosca sottovalutasse la reazione europea, che non era scontata. Ovvero i paesi europei hanno risposto in maniera compatta mettendo una serie di sanzioni durissime per Mosca che di fatto isolano pesantemente Mosca dal sistema economico internazionale in maniera netta e onestamente è anche difficile pensare una volta che sarà raggiunto un cessato del fuoco è un congelamento del conflitto perché io negli ultimi 20-30 anni non ho visto risoluzione dei conflitti. Io ho visto conflitti congelati e quindi ipotizzando anche di arrivare a un congelamento del conflitto io non credo che i rapporti tra la Russia e i paesi europei torneranno così agevolmente a quelli che avevamo prima. Comunque questo conflitto è una frattura netta dei rapporti tant'è vero che nel momento in cui gli europei iniziano a mettere al centro dell'agenda il tema del diversificare le proprie fonti di approvvigionamento per non dipendere più da Mosca è evidente che il peso specifico negoziale di Mosca inizia a diminuire e quindi si guarda altrove si guarda ad altre aree si guarda al Nord Africa si guarda al Mediterraneo Orientale si guarda in un'ottica anche di possibile nuovo accordo sul nucleare iraniano per certi versi anche l'Iran è un'altra incognita, non c'è dubbio sappiamo quante incognite però evidentemente qualora dovesse essere aggiunto un nuovo accordo anche l'Iran rientrerebbe tra quelle fonti alternative per non dipendere da Mosca certo poi magari ci torneremo ma solo un flash cambiano anche i rapporti con la Cina inevitabilmente tra Bruxelles e Pechino l'avvertimento di von der Leyen è stato anche questo abbastanza chiaro? dunque il tema della Cina è probabilmente il tema più rilevante di questo conflitto per cui hai ragione perché Pechino si trova da un lato a essere chiamata in causa in un possibile negoziato o quantomeno nel mantenere se non imporre sanzioni quantomeno non aggirare le sanzioni nei confronti di Mosca dall'altro lato è evidente che il peso specifico di Pechino può essere determinante nel sostenere gli sforzi di un negoziato che però attenzione Pechino più volte ha mandato dei messaggi molto chiari Pechino rifiuta lo ha detto in tutti i modi lo ha detto il ministero degli esteri lo ha detto il portavoce lo ha detto in maniera per certi versi ancora più chiara il presidente Xi Jinping rifiuta la logica dei blocchi cerca un'Unione Europea che interprete il rapporto con Pechino in maniera indipendente e questo qualcosa significa in gergo diplomatico e soprattutto Pechino non condivide l'impostazione che ha portato alla crisi in Ucraina quindi che cosa siamo di fronte a un possibile impegno della Cina con però se vogliamo dei parametri dei paletti chiari perché comunque se la Cina è chiamata a contribuire alla soluzione di un conflitto che è epocale evidentemente la Cina lo farà sulla base di una sua impostazione che più volte ha definito essere differente cioè Pechino rifiuta questa logica di blocchi ha uno schema diverso di impostazione questo non significa che attenzione Pechino ha chiesto anche all'Unione Europea e anche la Nato un maggior dialogo con Mosca però evidentemente adotta un'impostazione che vuole evitare una come possiamo dire un assetto di sicurezza in Europa che possa essere il preludio ad ulteriori crisi certo professore ci torneremo intanto grazie grazie a lei arrivederci grazie a tutti